Il Servizio Sanitario Nazionale compie 40 anni, è nato per garantire a tutti lo stesso diritto alla salute, ma purtroppo il diritto alla salute dei cittadini italiani dipende molto da dove abitano, da qui i viaggi della speranza, le cure, le diversità di trattamento tra le varie aree del Paese. Perciò bisogna appoggiare la proposta di cittadinanza attiva che chiede di modificare l'articolo 117 della Costituzione per garantire davvero a tutti il diritto alla salute. Andate sul sito di fondilasalute.it e appoggiate questa campagna.